Una prima assoluta a Canale 5. Devi rimanere fuori da questa storia. Lascia fare a me. Ci sono troppe cose che non sai. Sono tutte così diverse e ognuna ha qualcosa da dire. Tu non centri con quello che è successo a Valentina. O c'è qualcosa che non so. Dovrebbe seguirci in commissariato? Forse non dovevo tornare. Direnta! Anna Valle, Giuseppe Zeno. Luce dei tuoi occhi. Martedì in prima serata su Canale 5.